Siamo qui a Bordecampo, gli Scarfulei pare che vincano o abbiano vinto. Io li chiamo Scarfulei. Comunque Ilaria riprendi il nostro piatto a forma di cuore, pasta made in Italy, made in Italy, I love Italy, anche se l'Italia ha perso. Ma come si fa? Andò a parlare tu. Buonasera a tutti, siamo qui dalla Sapienza Cup 2014 con quello che è il resta di Federica Di Pietro, rappresentante anche degli studenti della Sapienza. Non sembra, non è decoroso dirlo stasera, ma lo è. Federica, ci dai le tue impressioni sul Sapienza Cup questa sera? Com'è stare qui anche di venerdì? Innanzitutto la pasta è buonissima, mi assicuro che la svolta. Poi, pastore il venerdì. Aspettate un attimo in diretta, il bello della diretta chiamata di Stefania. Aspettate, la richiamo. Pastore il venerdì a Sapienza Cup è sicuramente atipico, però molto fanny. Yeah, andò, parla tu. Non è per nulla fanny Federica. Comunque siamo qui. Federica non ha le dette. Vabbè, Federica non ha le dette. No, 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 riprendi le. Penso che questa sia una delle interviste più brutte della storia. Riprendi le mie. Torniamo per un attimo serie, torniamo per un attimo serie. Federica, quindi un'opinione... Hello, Vitaly, hello, Vitaly. Vabbè, dal Sapienza Cup... Ciao a Cosi. Dal Sapienza Cup è tutto, ciao a tutti. Ciao Alberto. Ciao Alberto. Ciao Tettina, ciao Tettina. Ciao Tettina.